buongiorno prepara me sempre tu non si direbbe proprio quello di tic toc ma che belle queste mosse fantastiche latte zimillo baciamella baciamo la bottiglia la baciamella deve essere assai il famoso calciatore sano prepara me la bottiglia sana e l'atto zimillo aspettate la valle della Santa Laura non l'ha trovata che l'ha scritto burro qua che sta cacciato nello in tuo frigorifo no solo me la mecca ah sei anche devota vede 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 no viene il bordello no il divieto tu ami la vallea un matrimonio questo è andico delle nozze d'oro si è squagliata la vallea si è squagliata un pizzico no e tu devi far vedere queste cose non avevi appicciato il telefono l'estate si incendiano il telefono una crema piano piano vi faccio vedere non viene neanche un grumo è così va facendo guarda come la fai ah chissà perché eh cioè se lo fanno così la baciamella e si fa palloccia bellissima tu perché vuoi molto bene alle persone baciamme guarda quando 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 le pallocci che hanno fatto aspettate non ti muovete non chissi muovete ho fatto un guaio però no non si direbbe proprio te l'ho detto già da prima no per togliere le pallocche da dentro le pastocche le pastocche che azzeccate la farina vabbè che bello il frullamento a frullare la baciamella bello baciala tutta vai state per qui hai bisogno di fare le pallocche mamma mia che bello ma infatti mai visto una roba del genere quando la sta facendo il panettone sta facendo bello la torta il ciambellò bacio 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 stame dopo 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 ma si è troppo casino queste cose eh 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 quaglia omogenezza si dice omogenezza 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 bello questo è vietato ai bambini quella cosa non c'è ci vuole pazienza è certo la cucciarelli proprio con la cucciarelli stai girando c'è tutti i frullatori c'è il nervo ah ti stai salendo ah la butti in strada bravo quella è la cosa ideale mettene nel tombino perché deve andare direttamente nella fogna guarda guarda quanti grumi con tanta graziatella graziatezza graziatezza graziatuline grazie all'itè grazie a Natale garbatezza capacienza aspettate aspettate no no non vogliamo vedere perché la baciamella baciamella vai baciala ah ecco vi giuro è come sapori come no mangi mangi vai mangi le due bevi così prende la pentola vai mettetela in destra la doccia